vamos signori pullona da 10 e niente è scena ida signori niente assurdo io speravo su gaming su qualcun altro e invece è andata così e vabbè what the fuck signori assurdo due pull signori ci sta ci sta come inizio non è male ora mi aspetterei una spada sacrificata per finire in bellezza come inizio non c'è male comunque non mi lamento non mi lamento affatto mazza draghi a non finire voglio vedere tutti questi draghi dove stanno oh raga che dire ragazzuoli pull da 10 di nuovo eh sti cavoli pronti vamos ma dovrebbe uscire eh e andiamo signori un attimo di confusione ho detto ma com'è l'arco corbino aspetta eh è lui è lei è anche gaming di nuovo ho detto che lo faccio ci sera anche voi non mi credete che vedevo di non ci voglio credere non ci voglio credere risparmio i vostri commenti maledetta cici cici che prova a entrare questa è la sua la colpa è sua la colpa mamma mia gin c1 raga eh potrebbe uscire anche l'altra no potrebbe uscire dai cioè capita no cioè capita a tutti perché non a me scusa cioè e infatti dai è il bravo vabbè raga lo sapevamo lo sapevamo e niente quindi così quanto stiamo raga 61 71 81 stiamo 81 ah però dobbiamo capire da quando è iniziata da quando è da quando è uscita vabbè non si vede è uscita quasi subito quasi quarta quindi siamo a 6 pool più o meno o sbaglio quindi 5 ok io ho detto 6 raga siamo lì eh 5-6 dai ci sta bella batosta si porca miseria vabbè faccio gin c1 guarda io vi giuro per il tipo che sono preferivo prendere cici o o deia assolutamente deia però niente raga naida al massimo preferivo mona però naida c1 scusa gin c1 è forte vabbè chiedo andiamo ora la vera domanda è ci basteranno gin è forte con fiorina quante pull ho qui scusate 1.6 3 2 6 4 ce l'ho a voglia a voglia a voglia eh si infatti ce li ho ce li ho vamos che cosa era dorata signori l'ho vista era dorata eh era dorata cioè era dorata mamma mia se era dorata back to back back to back ed eccola qua signori ce l'abbiamo fatta signori con solo 30 pull dai raga adesso si mette alla prova e vediamo cosa farà con l'iverbloom e a tutti gli altri che hanno vadato contro sapete cosa vi dico mamma mia mamma mia signori ce l'abbiamo nessuno ce la anche faruzan assolutamente un'altra pullatina che la diamo che dite che la diamo un'altra pullatina ci sta perché no scusa troviamo troviamo magari il frammento sacrificale vabbè ma dato non è che uscirà un'altra naida più che altro mi dà un affaro dai l'ultima l'ultima vamos vamos ok ah nilu con la sifos no non posso tornare indietro ho sbagliato scusate no cazzo potevi dirlo prima karen eh beh dai dammi gaming almeno dai gaming così lo faccio c2 dai e andiamo signori mamma mia ma io sono sicuro raga che lo faccio c6 quando è così lo fai c6 io lo so porca miseria non vorrei fermarmi e sta secondo me mamma mia 171 librettini si è presa naida quanto consumi mamma mia ok ci prendiamo anche questa ma che dite raga vogliamo fare anche un po' di queste pull che dite tanto queste non c'entrano con la xifos no vada il pda 0 se no aspetto aspetto ne faccio 75 allora ma lo so però magari ci becco xinchu e ci becco qualche campione 4 stelle buono no 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 ci sta magari mi chiudo qualcuno di loro dai vamos va bene se ce l'avevo già c6 non sbaglio no non ce l'ho c6 non è culo raga non è culo non è culo ah ho preso la c6 qui e allora non devo metterla ah la c5 ho preso ah ottimo ok vamos adesso mi serve xinchu grazie così il 22 febbraio non ci prendiamo l'ultimo no l'ultimo in realtà no vai bel xin xinchu ci sta eh ci sta vamos no ma lo spadone ma ficca però ancora non è detto ancora non è detto signori ancora non è detto è detto mi sa insomma sì no sì forse sì forse sì ok ma secondo voi poteva uscire subito direi di no eh no eh no eh no eh no dai xinchu ti aspettiamo niente 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 vabbè però vedrete qui pronti raga due xinchu qui al volo due xinchu due due ancora non è detto eh aspetta aspetta è come prima è come prima fa così ma poi esce xinchu guarda eh hai visto è tanta roba eh lo so eh lo so che che è come prima